Luciano Biolchini, il nuovo sindaco di Pagullo, una novità sono le opposizioni. Come saranno i rapporti con loro? Io spero puntata tutta la campagna elettorale e punterò tutta la mia amministrazione perché siano ottime. Perché io ritengo che le opposizioni, per una vera democrazia, sono importanti quanto chi ha vinto le elezioni. E quali sono gli strumenti che avete il nostro Paese? Intanto la prima cosa, quando porteranno in Consiglio Comunale cose che vadano nel bene del nostro Paese e abbiano le coperture finanziarie, saranno sempre approvate. L'altra cosa è che abbiamo cercato di istituire una commissione e una delega che vanno in questa direzione. La commissione è questa qui che aspetta, e nelle grandi città nel nostro Paese non c'era, è quello di controllo e garanzia, che aspetta obbligatoriamente le opposizioni. Credo che sia il primo diritto che ha un'opposizione. L'altra è una delega che mi sono tenuto io, però sarò lieto di collaborare con chiunque dell'opposizione, ne vorrà usare. È la delega alle partecipazioni, le frazioni e le partecipazioni, che è quello che consente di fare un po' tutto. E queste sono le due cose che crediamo abbiamo fatto, i primi passi che abbiamo fatto per l'opposizione.